Mussolini, ex mangiapreti socialista, sapeva che il suo successo personale politico passava attraverso la benevola condiscendenza della Chiesa romana. D'altro canto, il Papa e la Curi erano più preoccupate dalle forze di sinistra, laiche e antireligiose che non dal fascismo. Insomma, i patti lateranensi furono un vero e proprio matrimonio di interesse, non a caso gli unici contrari arrivarono da esponenti dei liberali, rimane celebre un discorso di Benedetto Croce al Senato o dalle forze cattoliche antifasciste di Luigi Sturzo. Alla caduta del fascismo i patti lateranensi cominciarono a essere messi in discussione, ci vollerò però oltre 50 anni per arrivare alla revisione firmata da Craxi e dal Cardinal Casaroli. La religione cattolica smetteva di essere religione di Stato, in cambio la Chiesa otteneva l'istituzione dell'otto per mille, ma anche la conferma di alcuni benefit fiscali che ancora oggi lasciano le polemiche su quel tipo di accordo.